Conferenza dei capigruppo domani a Biancavilla per fissare una nuova seduta del Consiglio Comunale e decidere i punti da inserire all'ordine del giorno. Tanti gli argomenti in eredità dall'amministrazione precedente che devono approdare all'attenzione dell'Aula. Abbiamo intervistato il Presidente del Consiglio Comunale, Marco Cantarella. Ci sono all'incirca 10-12 punti della precedente amministrazione che non sono mai stati esitati al Consiglio Comunale e quindi provvederemo in tempi molto celeri a sfoltire e a dare finalmente un voto a tutti questi punti all'ordine del giorno. Dopodiché procederemo con quelli che sono i punti più urgenti che mano a mano la Giunta e i consiglieri porteranno in Consiglio Comunale. Ce n'è qualcuno che ne vogliamo anticipare? Sicuramente ci sono alcuni punti delicati e alcuni punti risalgono addirittura al 2017. Si parte dall'edilizia per arrivare a quelli che sono regolamenti generali, quindi c'è un po' di tutto. L'obiettivo del Consiglio Comunale è cercare di dare risposte il prima possibile. Secondo lei qual è la qualità di questo Consiglio Comunale? È tanto di maggioranza e tanto di opposizione e che tipo di dibattito si è instaurato sin adesso? Allora guardi, non sta a me giudicare naturalmente sulla qualità delle persone. Questa verrà valutata dai cittadini o coloro che avranno l'opportunità di seguire quelli che sono i consigli comunali. Sicuramente le emittenti in questo caso, come la vostra, possono aiutare anche a formulare un parere positivo o meno dei consiglieri. Sicuramente da Presidente quello che a me sta molto a cuore è quello di creare un dibattito propositivo affinché ne benefici semplicemente il paese di Biancavilla. E fino ad ora c'è stato? Fino ad ora c'è stato, questo lo posso confermare, ad esempio all'ultimo Consiglio ci sono state delle proposte della minoranza e sono stati presi degli appunti e degli impegni precisi affinché sia data la possibilità anche alla minoranza di svolgere un ruolo utile.